L'Asla Toscana Sudesta, protagonista Festa Ambiente, all'azienda sanitaria è stato infatti assegnato il premio Animali in Città 2024, riconoscimento che Legambiente assegna quelle realtà virtuose tra comuni, istituzioni e società civile che si distinguono per l'offerta di servizi e azioni dedicate alla tutela degli animali e al loro benessere. Come lo scorso anno siamo stati premiati tra le migliori tre aziende sanitarie per l'attività effettuata nel settore di igiene urbana, in particolare per azioni volte a prevenire il randagismo canino e il randagismo felino. Per noi rappresenta un importante momento questo, perché testimoni all'impegno dell'Asla Toscana Sudesta, del dipartimento veterinario, ma in generale di tutta l'azienda, nei confronti degli animali da affezione, non solo in termini sociali, ma anche in termini terapeutici. È una tappa importante su cui l'azienda, come è noto, ha deciso di investire e continuerà a farlo, anche con iniziative all'interno degli stabilimenti ospedalieri.